In base alle norme vigenti è obbligatorio indossare la mascherina a volto treno in modo da coprire integralmente naso e bocca. La violazione di tale obbligo comporta l'intervento delle forze dell'ordine con l'interruzione del servizio nella prima stazione utile. No, che meraviglia. Sono dei bacini. No. Sì, è vero. c'è prova eh, so di roma eh, io so il re di roma eh no che bello, troppo bravi tutti e due, c'è prova eh, non ho schiaffone, fai quasi paura Freddy, ti do un ceffone, ti do uno schiaffone se non fai bravo, bravo, oh bravo 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 bravo